Reparto elettricisti, siamo alle prese sempre a Teatro Comunale di Bologna con l'allestimento di italiani in Algeria, le lampade da appendere. Quello di dietro, in terasse 10 metri, mettiamo le due lampade grandi, destra e sinistra, sfalsate di 3 metri l'una con l'altra, cavi uguali. Il tiro avanti, in terasse 3 metri e 40, mettiamo le due lampade, grande e piccola, grande e piccola, sfalsate tra di loro di 50 centimetri e poi una all'inizio dell'altra. Ragazzi un po' di più di circa 20 centimetri perché c'è i cavetti da un metro. No, no, arrotoliamo come ha detto Mirko sopra al tubo perché lo schema c'è l'oliva della posizione, glielo ho appena dato, se vuoi te lo porto uno anche a te. No, no, c'è lo schema lì, va bene, adesso c'è anche dei cavetti da 50 centimetri, c'è quei da un metro, gli apparecchi, comunque vediamo se vuoi fare 50 centimetri. Sì, ma se lì è semplice appendere una lampada, invece bisogna sempre progettare giusto. Mi fate vedere una lampada in piedi per favore, così, e queste verranno illuminate con una lampada da 100 watt dentro, strepitosa, veramente bellissima, belle davvero. Se piacciono agli elettricisti piaceranno anche a me. L'altra lampada che avete in più al limite la portiamo in attrezzeria, grazie mille. Grazie. Grazie.